Signora, lei è preoccupata dalle nuove regole stabilite dal governo per quanto riguarda la questione natale, testeggiamenti, il nuovo DPCM? Lei si riunirà con i suoi cari? Veramente, con mio figlio e basta, che mia figlia sta fuori e non può scendere. Non scenderà? No, non può. Triste, triste per tutte queste persone che non lavorano, che non guadagnano. Io penso a queste persone che tengono le famiglie, i bambini a casa e se non incassano i bambini non mangiano. Questa è la mia tristezza. Sono misure a livello nazionale, è chiaro che vanno rispettate. Il problema economico e finanziario c'è e l'ha comportato questa pandemia. Per cui le ripercussioni ci sono, ci saranno. Dobbiamo solo augurarci che passi presto, anche grazie all'aiuto dei vaccini e dell'attento all'osservazione delle prescrizioni. Siamo dispiaciuti che non ci possiamo incontrare. Perché i miei fratelli vengono solo a Natale, a Pasqua. Già a Pasqua non sono venuti. Ritenete questa cosa però una cosa giusta? Da un lato sì perché comunque è meglio evitare rischi. Questi spostamenti potevano comunque farsi se magari le persone che vengono da fuori prima di venire si fanno un tampone. Fortunatamente noi abitiamo tutti in un solo palazzo, quindi possiamo riunirci senza uscire, diciamo. Quindi da questa parte siamo fortunati. È brutto perché noi siamo abituati, noi giovani, a fare il Curva Day, il Capodanno, la Virginia di Natale. Quindi ora non poter fare niente è un po' un'angoscia, però purtroppo lo capiamo. È un sacrificio sopportabile. Se serve ad uscire da questo incubo, sì. È una situazione particolare per tutti, complicata, però veramente non si capisce nulla di questo nuovo DPCM. Perché noi appunto dei bar siamo molto ma molto penalizzati e avremo una perdenza esagerata rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda noi lavorativamente parlando, la situazione è grave.